setacciate tutta la zona dobbiamo trovarla assolutamente noi ci dirigiamo da questo lato se ci dividiamo sarà più semplice fate attenzione non sappiamo cosa ci aspetta un momento vedo qualcosa sbagliamo quella rete e avviciniamoci con cappella è passata sui piedi è passata sui piedi è passata sui piedi capitano presto venite che succede eccola finalmente è lei un oggetto dal valore inestimabile mai nessuno è riuscito a trovare la prima d'ora la maschera di Samudra le antiche leggende raccontano che essa custodisca una misteriosa energia in grado di proteggere chiunque dalle forze oscure degli avessi sarà la nostra salvezza nei prossimi viaggi avanti prendiamola facciamo attenzione però è molto fragile fermi silenzio ho sentito qualcosa questo nascondiamoci tutti immobili fino al nuovo ordine che nessuno si faccia scoprire mi piace mi piace mi piace iscriviti al canale 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 Sì, 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 sì Qualche intruso è salito a bordo! Stranieri, quali oscure onde dell'oceano vi portano nelle nostre terre? Qui la pace e la tranquillità arregnano sovrani. E non sarete di certo voi pirati che riuscirete a distruggere quest'armonia? Ma noi siamo venti in pace e non volevamo assolutamente creare scompiglio. Quindi vi state dicendo che a voi non interessa per nulla questa preziosa maschera, vero pirata? D'accordo, ci avete scoperti? Quale pazzo non vorrebbe custodire tra i suoi tesori la maschera di Samudra? E pensate che sia così semplice? Questo privilegio aspetta solo a coloro che sono in grado di dimostrare di essere i condottieri più valorosi. Esiste una prova, una prova di forza. Superatela e sarete protetti dalla sua immensa energia. Fallite e un'oscura maledizione avvolgerà per sempre il vostro destino. Sembra davvero una sfida allettante. Metto a disposizione il più valoroso pirata della mia turma. Buona fortuna, straniero. 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 Capitano, grazie alla tenacia e all'abilità del vostro pirata avete dimostrato di poter usufruire della potente energia della maschera la sua forza avvolgerà poi e il vostro calione per sempre è stato un piacere, maestà, non dimenticheremo mai questa incredibile spedizione sembrava il pretesto per l'ennesimo scontro tra due popoli che si contendono la semplice la semplice l'elemento c'erla Grazie a tutti